Se vi sono mai arrivate lettere in ritardo? Sempre. Non ci è voluto molto tempo per raccontare come funziona il servizio postale a Bassano negli ultimi tempi. Abbiamo cercato conferme ad alcune mail che sono arrivate in redazione di denuncia su ritardi anche di 20 giorni nella consegna della posta. Bollette e solleciti che arrivano già scaduti causando anche in alcuni casi la sospensione della fornitura. La bolletta scade e ti arriva il giorno dopo che è scaduta. Quello sì, l'ho notato anch'io. E io lavoro in un salone di parrucchiere e tanti clienti si lamentano di questo che arriva la posta in ritardo. È accaduto però non posso. Cioè guarda, per quanto arrivi in ritardo per me sono sempre in ritardo io. La posta mi arrivava tardi, anche i giornali, gli abbonamenti ai giornali. E sono venuta a reclamare, mi hanno detto che c'è una scarsità di personale. E basta. Nella segnalazione che ci è arrivata, il nostro telespettatore racconta di aver ricevuto a casa la prenotazione di un esame medico inviata dall'Ulss con un ritardo di 20 giorni. Se l'Ulss non avesse inviato anche l'SMS di conferma, il paziente avrebbe perso la visita. Noto comunque che mi arriva tutta la posta insieme, una volta alla settimana. E purtroppo cambiando continuamente i postini, da me ad esempio non infilano la posta nella cassetta. E c'è chi, per ovviare a qualsiasi inconveniente, soprattutto nelle forniture di luce e gas, ha deciso proprio per questo di domiciliare le bollette. Ho tutto sul conto corrente, quindi sono puntualissimi lì.